Quattro anni di collegi, un padre morto a 18 anni, cliniche, collegi, carceri, abbastanza fame, sembra retorica dire che la mia infanzia è stata così, ma in realtà la mia infanzia è stata veramente così. Ho dormito nelle macchine per un anno, ho mangiato dei panini per un paio d'anni quando ho lasciato casa e ho cominciato la mia vita da randaggio, ho fatto dei fotoromanzi sfruttando un po' un decente aspetto fisico che avevo allora, più ancora di adesso, e la mia è stata una vita di corsa, ho corso sempre, ho corso sempre ed è quando ero giovane correvo, correvo verso via Veneto, via Veneto era una strada piena di significati, dietro via Veneto c'era tanto allora, per uno che sognava come me, probabilmente dei sogni sbagliati.